buongiorno allora oggi vi faccio il video della morning routine vi faccio vedere appunto cosa faccio ogni mattina allora come prima cosa vengo svegliata dai dai cani qua in primi se arriva da muffin che scodinzolando mi sveglia ecco vedete dolcissima perché si appoggia e vuole le coccole e poi dopodiché arriva anche giarli per appunto svegliarmi perché vogliono comunque uscire la mattina per amiazzo inizio ad aprire tutte quante le finestre così inizio a far arieggiare e poi mi fiondo subito in bagno ed inizio ora a preparare la colazione inizio a far riscaldare l'acqua al microonde perché sto utilizzando come avete visto anche su instagram da circa una settimana il body detox della fitti quindi inizio a prepararmi la mia tovaglietta con tutto ciò appunto che mi servirà per la colazione l'azienda appunto circa una settimana fa gentilmente mi ha inviato questo prodottino da poter provare appunto parlarvele nello specifico questo qui è quello nella nel gusto fit berry è fantastico perché all'interno ci stanno scaglie di mela tè verde scaglie di zenzero scaglie di barbabietro e bacchi di rosacanina ma i mirtili lamponi e more ed ha un sapore fantastico vado a prepararlo mettendo il un cucchiaino e mezzo di composto dentro questo colino che era incluso nel pacchettino e lo immergo immediatamente nell'acqua calda e lo lascio stare in infusione tra i sette e gli otto minuti nel frattempo per non perdere tanto tempo inizio a sistemare la camera da letto quindi rifaccio subito il letto e metto a posto appunto tutto ciò che c'è in disordine nella camera da letto dopodiché inizio a far colazione e associato al fitty e mangio anche due fette biscottate con marmellata alla pesca cosa dirvi allora del fitty associato a una sana alimentazione e ad attività sportiva potreste appunto avere tanti benefici quali il bruciare i grassi più velocemente e quindi far accelerare il metabolismo aiuta a combattere la ritenzione idrica ed aiuta a perdere peso associato quindi all'attività sportiva da energia e idrata la pelle rendendola più liscia e luminosa io dopo una settimana ho riscontrato tantissimo l'effetto drenante poi ovviamente vi terrà aggiornate ovviamente qui sotto nell'info box vi lascio anche un codice sconto del 10 per cento qualora vorreste acquistare questo prodottino per finito di far colazione sistema ovviamente il tutto e mi metto subito al computer e apro la mia agenda per vedere un po come organizzarmi la giornata quindi se ho video registrare su qualche altra cosa da fare da da sistemare appunto dei documenti eccetera poi finalmente mi fiondo in doccia e inizio a fare appunto la mia routine del bagno e della skin care mi verso e mi preparo per per la giornata quindi inizio anche a truccarmi e nel frattempo sto al telefono con 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 mia sorella con 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 bene ragazze questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto come sempre lasciate un pollice in su e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi per non perdervi i prossimi video niente se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao